sentite in che lingua sono costituiti della partita non so se rumeno russo polacco ma comunque nell'europa dell'est usciti dalla guerra diciamo c'è scutito non lo so da dove sono usciti hanno riescono a vedere la partita molto meglio di noi che abbiamo dato quello schifo di da zone quello schifo di da zone sono costretto a vederlo su questo canale sconosciuto Politecnica Iasi non lo so ma li ringrazio mi devo veramente fare una statua al presidente polacco morto suicida qualche chiede a mio fratello qualche punto di quando che qualche riflessione su da zone bellissimo insomma di vederlo in galleria e poi dai qualche consiglio per migliorare il servizio da zone levarlo no proprio da dare a da zone levarlo si devono suicidare tutti quanti coi fili ma veramente ragazzi vergognoso partita a rischio epilessia su da zone comunque l'intervinge il gol di che età come è stato il gol di che età 1 a 0 non lo so bello non l'abbiamo visto siamo riusciti a intercettare questo canale di scafisti tv scafo quindi per adesso stiamo vincendo non stiamo neanche soffrendo e quindi forza inter ecco ecco non stiamo soffrendo e il gol stavo prendendo e stavo per prendere gol quindi fai un saluto a da zone vaffanculo noi l'ascoltiamo in polacco andano bici ti spiezo in due